Cosa ha spinto l'ex generale dei carabinieri forestali Guido Conti al suicidio? E' la domanda a cui la procura di Sulmona sta cercando di dare una risposta con l'indagine aperta al momento contro i gnoti per istigazione al suicidio. Indagine a cui si sta per aggiungere quella della procura di Pescara oppure il fascicolo coinfluirà nella stessa indagine che ha acquisito la telefonata anonima giunta alla redazione di PrimaDaNoi.it lo scorso venerdì, 5 ore prima del ritrovamento del corpo senza vita del generale avvenuto in una strada chiusa al traffico alle falde del Monte Morrone nel comune di Pacentro in provincia di L'Aquila. Una chiamata alla segreteria telefonica a cui i giornalisti di PrimaDaNoi inizialmente non hanno dato importanza, anche perché è praticamente incomprensibile. Poi, tramite un lavoro di ripulitura dell'audio, si è riusciti a capire il messaggio. Un uomo con cadenza meridionale e voce artefatta anticipa ciò che uscirà di lì a poco, cioè le dimissioni d'alto dirigente della Total di Guido Conti, appena due settimane dopo aver preso servizio in Basilicata a TempaRossa. di PrimaDaNoi.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it. Qual è il significato della telefonata? Sicuramente testimonia il clima che si respira attorno alle estrazioni petrolifere in Basilicata. Un clima che non si scopre però certo oggi. Il lavoro della procura sarà quello di scavare negli ultimi mesi di vita professionale dell'ex generale tabulati telefonici, mail e tutto quanto potrà essere utile a capire il perché del gesto estremo e se e quali siano le motivazioni personali ed esterne. Potrebbe aver pesato a livello psicologico la scelta di abbandonare la forestale, compiendo una rivoluzione copernicana a livello lavorativo rivelatasi poi una scelta senza futuro. Conti, in alcune conversazioni con amici e conoscenti, si era detto orgoglioso di essere stato scelto dalla multinazionale petrolifera anche e soprattutto perché il suo nome era stato selezionato grazie al lavoro fatto negli anni con le grandi inchieste condotte in Abruzzo e a livello nazionale. Ma il generale potrebbe anche aver sovrastimato la sua capacità di incidere in un territorio gravato da tante problematiche e da interessi confliggenti. Pressioni a cui certamente era abituato ma che senza lo scudo della divisa potrebbero averne minato la tenuta psicologica. Intanto ieri si sono celebrati i funerali del generale a cui hanno partecipato tanti cittadini sulmonesi e tutti i rappresentanti delle forze di polizia, molti di loro amici che hanno condiviso con Conti l'attività giudiziaria in Abruzzo. Il generale di corpo d'armata Nistri dal pulpito durante le sequie ha ricordato la rettitudine del generale parlando di disciplina ed onore, caratteristiche che forse mal si sono attagliate al nuovo ruolo senza divisa. Bentrovati a questa nuova edizione del TG6. Questa era la copertina dedicata al caso del suicidio dell'ex generale dei carabinieri forestali Guido Conti. Continuiamo il nostro telegiornale restando alla cronaca. Andiamo a vedere insieme l'operazione condotta dalla squadra mobile della quest'ora di Chieti che è riuscita a sgominare una banda dedita ai furti nel mese di novembre soprattutto nell'area del Chietino. Andiamo a vedere i dettagli nel servizio di Paolo Lorenzetti. Sgominata dalla squadra mobile di Chieti, la gang che si era specializzata nei furti, mordi e fuggi in alcuni centri del Chietino, in manette nelle ultime ore tre albanesi con un quarto uomo al momento irreperibile, recuperata anche una notevole quantità di refurtiva. Oggi restituiamo un minimo di tranquillità alla popolazione di questi paesi che è stata colpita da questa serie di furti avvenuti tra il 2 e il 3 novembre ultimo scorso. Si tratta di un sodalizio di cittadini albanesi particolarmente pericolosi perché hanno compiuto una serie di furti a raffia, quindi una proclività al reato di furto notevole. Gente che entrava tranquillamente e secondo loro anche impunemente nelle case, addirittura anche quando la gente stava dormendo, razziavano tutto quello che trovavano e dopodiché si davano alla fuga. Alcune volte tornavano direttamente in Albania perché da alcuni mesi è stato, da alcuni anni anzi è stato tolto il visto, quindi praticamente possono tranquillamente entrare e uscire per motivi di turismo, erano tutti infatti teoricamente sulla carta turisti. Il tutto è nato da un controllo che abbiamo fatto a seguito di un aumento anomalo dei furti nelle zone di Arielli, Torrevecchia, Caldari e zone limitrofe e sapevamo, approfondendo le fonti infoinvestigative, sapevamo che era gente di fuori, che non era gente locale, probabilmente stranieri. Quindi abbiamo fatto un capillare riscontro su tutte le strutture ricettive, in una di queste, un bed breakfast di Villa Caldari, una frazione di Ortona, abbiamo trovato questi quattro, quindi poi quello che doveva essere un semplice controllo si è rivelato molto risolutivo perché abbiamo recuperato tantissima aree furtiva e poi che abbiamo fatto? Abbiamo proceduto a ritroso, cioè avevamo gli autori dei furti ma non avevamo i furti e quindi operando a ritroso siamo riusciti a debitare loro sette furti attraverso la denuncia dei proprietari a cui in massima parte è stata restituita la aree furtiva. Siamo riusciti con molta difficoltà a rintrecciarne tre su quattro tra i territori di Frosinone e Marcianise e quindi abbiamo operato in collaborazione con le squadre mobili di Caserta e di Frosinone, nonché con il commissariato di Marcianise e con un'indagine fatta in brevissimo tempo con il metodo tradizionale siamo riusciti a arrestare tre persone su quattro. Non disperiamo di trovare il quarto che potrebbe essere catturato da un momento all'altro. Gli studenti delle scuole medie di Pineto hanno incontrato questa mattina nel teatro polifunzionale pinetese Jessica Notaro la modella di Rimini sfregiata con l'acido dal suo ex compagno. L'iniziativa è stata organizzata dal comune di Pineto e dalla commissione pari opportunità comunale. Sentiamo il servizio di Tania Bondici Castelli. Una giornata diversa quella trascorsa dai ragazzi delle scuole medie di Pineto che si sono confrontati con il tema della violenza sulle donne. Ospite d'onore è Jessica Notaro, la modella di Rimini deturpata con l'acido dal suo fidanzato che ha raccontato loro la sua storia con semplicità ed orrore. Jessica, quale sarà il tuo messaggio a questi ragazzi oggi? Il messaggio sarà semplicemente contro la violenza in generale, non solo contro la violenza sulle donne perché è giusto che da entrambi i sessi ci sia rispetto e l'atteggiamento giusto specialmente all'interno di una coppia. Come ti senti oggi? Bene, felice perché secondo me è sempre una cosa bella trasmettere queste cose ai giovani. Io cercherò di farlo in una chiave assolutamente informale senza rendere questo incontro troppo drammatico. L'incontro con Jessica Notaro è stato organizzato dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Pineto che ha in programma tutta una serie di iniziative di sensibilizzazione sul territorio contro la violenza di genere. La CPO di Pineto con questa iniziativa ha voluto proprio dare l'avvio a una serie di eventi che hanno principalmente la finalità di prevenzione di contrasto alla violenza di genere naturalmente nei confronti della donna attraverso un motto che è quello di conoscere per far riconoscere. Quindi abbiamo inteso attraverso la testimonianza che ci renderà Jessica Notaro voler coinvolgere gli studenti, le scuole, i ragazzi e in particolar modo il genere maschile per fare in modo che proprio attraverso questa testimonianza loro possano apprendere cosa sia la violenza e soprattutto poter riflettere su tutta una serie di comportamenti dei quali loro non si rendono conto che sono agiti del vivere quotidiano e che magari nel tempo possono benissimo cronicizzarsi. Quindi evolvere in atti di qualunque tipo, quindi violenza non solo fisica ma anche psicologica, maltrattamenti. Andiamo all'Aquila, ancora furbetti del terremoto. La Guardia di Finanza continua i controlli e scopre e denuncia un 37enne aquilano che aveva dichiarato il falso tenendo contributi per l'abitazione principale che invece era in locazione alla data del terremoto del 6 aprile del 2009. Sentiamo il servizio di Daniela Rosone. Avrebbe presentato false autocertificazioni per attestare che l'immobile fosse la propria abitazione principale, in modo tale da ottenere il contributo per la riparazione dei danni causati dal terremoto del 2009, mentre quell'unità immobiliare risultava invece ceduta in locazione alla data del 6 aprile. Per questo i finanziari del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza dell'Aquila hanno sequestrato un immobile del valore di 75 mila euro su ordine del giudice per le indagini preliminari Giuseppe Romano Gargarella, a un 37enne aquilano, che è stato beneficiario di contributi per l'autonoma sistemazione e per la ricostruzione dell'immobile di proprietà, entrambi inospettanti a questo punto. La misura cautelare giunge al termine di indagini nell'ambito di una più ampia attività investigativa, svolta dalla Polizia Municipale, in sinergia con il nucleo di Polizia Tributaria della Finanza, finalizzata a riscontrare la sussistenza dei requisiti legittimanti di accesso ai finanziamenti pubblici, destinati alla ricostruzione degli immobili, costituenti abitazione principale e ovviamente danneggiati del sisma del 6 aprile. Le indagini avrebbero appurato che l'indagato dimorava stabilmente in un altro luogo, mentre l'unità immobiliare oggetto del contributo ottenuto risultava condotta in locazione da terzi e comunque non era di certo adibita ad abitazione principale. Il sequestro è scattato a seguito delle indagini di natura patrimoniale condotte dai militari che hanno consentito di ricostruire e quantificare i beni e le disponibilità finanziarie riconducibile all'indagato. Voltiamo pagina adesso la politica con la crisi al comune di Teramo. Nessun consigliere comunale andrà davanti al notaio per firmare la sfiducia al sindaco Brucche e dunque le dimissioni, come aveva chiesto il consigliere Gianluca Pomante, che oltretutto aveva già prenotato l'appuntamento davanti al professionista. La linea condivisa però potrebbe essere quella di andare in consiglio e votare no al bilancio. Sentiamo. Alla richiesta del consigliere comunale di Teramo Gianluca Pomante, che invitava opposizione e dissidenti della maggioranza a recarsi davanti a un notaio per firmare la sfiducia al sindaco Brucchi, si aggiunge un altro no. E il no della consigliera civica Paola Cardelli, che si allinea alla medesima posizione assunta dagli ex alleati del primo cittadino e dal resto della minoranza. In parole semplici, chi vuole sfiduciare Brucchi non deve andare dal notaio, ma in consiglio e pubblicamente votare no al bilancio. La questione proposta dal volontario che si è fatto strumento del consigliere regionale Gatti, perché a presenza di andare dal notaio a dimettersi, mi trova assolutamente contraria sia nel metodo che nel merito, poiché la sede istituzionale di sfiducia nei confronti di un'amministrazione è il consiglio comunale. Esiste una mozione di sfiducia già pronta da giugno. e invito ancora una volta tutti i consiglieri della maggioranza, ma soprattutto quelli di Futuroin, a votare questa sfiducia. Per quanto riguarda la mia posizione, sarò al consiglio comunale quando si approverà, come già detto precedentemente, quando si presenterà il bilancio. Sarò presente e tra l'altro, se, come è vero che sembra che il sindaco abbia aderito alla proposta di rimettere sul campo, in campo, la questione di Via Longo, quindi di chiudere quella questione, di chiudere la questione della Tercop e di introdurre nel prossimo programma della TEAM la tariffa puntuale, nell'occasione di questo consiglio sul bilancio, potrò anche partecipare alla votazione, naturalmente votando no, ma per quanto mi riguarda mantenendo quindi il numero legale. Adesso ci spostiamo al comune di Lanciano, che non aprirà sportelli per il rimborso della Tarsu 2013, ma spetterà eventualmente la sentenza del ricorso pendente in Cassazione. Quanto alle sentenze di primo grado, che nel 2017 hanno visto soccombere il comune di Lanciano, saranno tutte impugnate e appellate. Sentiamo il servizio. In un momento di grande anarchia e confusione, la chiara e netta scelta politica fu quella dell'equità, tornando alla Tarsu dalla Tares. Le categorie produttive avrebbero infatti subito un salasso senza precedenti. Nessuna rapina dunque o mal tolto, ma solo equità. E' questo il succo della conferenza stampa da parte del sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, dell'assessore alle finanze Carlo Recchioni, di Valentino Di Campli, ex assessore al bilancio nel 2013, anno del pasticcio Tarsu, con regole poco chiare che mandarono in tilt centinaia di amministrazioni in tutta Italia. Nessun tesoretto fu costituito con la Tarsu 2013, che servì invece a coprire esclusivamente i costi del servizio e non altro. Dunque la minoranza, che ha parlato di mal tolto o rapina, ha sbagliato e di grosso. Il sindaco Mario Pupillo. Non è assolutamente una rapina. Le 900 mila euro che la maggioranza definisce in questo modo non sono altro che una parte del costo complessivo della tariffa Tari, che serve a andare in pareggio per il costo dello smaltimento di rifiuti. Quindi noi spendiamo circa 4 milioni e mezzo, quei 900 mila euro fanno parte di quei 4 milioni e mezzo, non sono assolutamente in più, quindi non abbiamo fatto nessuna rapina. Stiamo valutando il percorso in via giuridica e quindi noi andiamo in Cassazione, in quanto in primo grado la Commissione Provinciale ha dato ragione alla nostra scelta di rimanere alla Tarsu e non passare alla Tares e adesso andiamo a vedere che cosa ci dirà la Cassazione. Lo stabilimento Intex dell'Aquila, siamo alla pagina sindacale, chiude e manda a casa 68 ricercatori. Una chiusura definitiva, nonostante negli anni si siano succeduti numerosi tavoli di trattativa per cercare di scongiurare la fine dello stabilimento, così l'Aquila perde un pezzo importante del settore della ricerca. Vediamo. La Intex chiude il suo stabilimento all'Aquila e in 68 ricercatori a breve riceveranno la lettera di licenziamento tra 30 giorni circa, ormai non c'è più nulla da fare. I sindacati dicono che impugneranno i licenziamenti, ma comunque non sono serviti nulla ai tavoli di questi anni, perché l'azienda non tornerà indietro, questo è certo. Il settore della ricerca perde così uno stabilimento all'avanguardia e di eccellenza. Il vicepresidente della regione Giovanni Lolli, per la verità, già qualche tempo fa aveva dichiarato di lavorare a soluzioni alternative che vedrebbero il coinvolgimento di tale Salenia e Telespazio che potrebbero riassorbire le maestranze che negli anni si sono formate adeguatamente. La storia della Intex è lunga. La professionalità di eccellenza rilevate dalla Compel nel 2011, che secondo i sindacati non sono state mai valorizzate. La Intex nacque nel 1974 e dallo Stato ha 500 dipendenti con sede centrale a Roma. Nel 2011 rilevò la Technolabs, laboratorio di ricerca e centro di eccellenza. Prima gli esuberi, 13 e poi un lungo calvario che ora portate a licenziamenti collettivi, ben 68. La motivazione è da ricercare nella crisi del gruppo, anche se nei mesi appena trascorsi si è spesso parlato di un braccio di ferro tra Intex e Regione. L'azienda però ha sempre smentito e rispedito al mittente le accuse di aver fatto pressione alla Regione Abruzzo per poter lavorare. Voltiamo ancora pagina, ci spostiamo lungo la costa dei Trabocchi per andare a vedere il progetto Greenway che è stato presentato questa mattina presso la sede della Camera di Commercio di Chieti e che tende a valorizzare una delle parti più belle della nostra Regione. Stiamo lavorando a due anni e mezzo nella costruzione di un prodotto turistico attorno alla costa dei Trabocchi e alla pista ciclabile della costa dei Trabocchi. Quindi con tante iniziative che abbiamo sviluppato e che si svilupperanno in seguito, questa è quella che da un punto di vista di comunicazione ma anche di acquisizione di informazioni è la più importante perché è un convegno europeo, intervengono i principali esponenti europei legati al tema della mobilità dolce e ai percorsi cicloturistici sia per lanciare e far conoscere questa pista a livello europeo ma anche per capire i modelli gestionali che in Europa si utilizzano e realizzano in maniera tale da poter copiare positivamente ovvero trovare una via originale per poterlo fare noi. Un progetto su cui noi abbiamo scommesso da tempo anche quando eravamo impegnati nella lotta contro la petrolizzazione è arrivato il momento di dimostrare che un'economia e una socialità diversa su questo territorio è possibile. Un brand, quello dei Trabocchi, per la zona proprio rivirasca della provincia di Chieti, zona di San Vito appunto. Negli ultimi tempi lo si propone come brand, come marchio, può essere utile la costa dei Trabocchi e anche altro, ha una sua storia, una storia fatta del rapporto dei cittadini di San Vito e degli altri comuni della costa con il mare però è importante insomma anche avere un'idea, le idee chiare su come promuoverlo fuori regione e anche all'estero e quindi ecco il brand, il marchio può essere utile in questo senso. Una iniziativa che tende a valorizzare la peculiarità che noi avremo dopo la realizzazione della pista ciclabile in una parte dell'Abruzzo che va sicuramente valorizzata. Io non vedo molta attenzione da parte della regione per esempio, accendo il faro della polemica un attimino, perché la costa dei Trabocchi dà il valore aggiunto all'Abruzzo, si pensi al Salento nelle Puglie, quello che ha rappresentato per l'economia generale di quella regione. Ed ora torniamo all'Aquila dove i commercianti si preparano per il Natale ma chiedono al Comune una mano, soprattutto con iniziative luminarie per il corso. I commercianti del Centro Storico si preparano a Natale, già cominciano a vedersi le prime vetrine addobbate a festa. La speranza è in un po' più di affari e nella collaborazione con il Comune dell'Aquila, con il quale è iniziato già un percorso. C'è chi vorrebbe le luminarie per tutto il corso e chi chiede ancora una volta più parcheggi. Ci stiamo carenzando, almeno io, da parecchio tempo, da subito dopo i morti, sperando di vendere un po' tutte queste cosettine che abbiamo qui al negozio, sia per l'addobbo dell'albero e sia come regali. Ma noi non chiediamo nulla, vorremmo soltanto che anche quest'anno ci fossero gli addobbi sopra, le luminare sopra nelle vie centrali della città per creare questa atmosfera natalizia, non come le grandi città, ma una parvenza. Ma mi sa che quest'anno salteamo. Ci stiamo preparando abbastanza bene, noi stiamo operando soprattutto fuori, perché l'Aquila, il centro, un po' risente di questa crisi, un po' i sottoservizi, un po' i danni della vecchia amministrazione. Adesso vediamo la nuova, noi siamo fiduciosi. Chiudiamo la pagina di Cronaca con una bella notizia facendogli auguri a Rita Di Leonardo, che lo scorso 18 novembre ha spento le sue prime 100 candeline, vedete le immagini. Un secolo di vita per la bisnonna nata nel 1917, nel pieno del primo conflitto mondiale. Una vita dedicata al lavoro, quello della donna, che ha provato anche la dura fatica nei campi di tabacco. Ovviamente a Rita Di Leonardo e alla sua famiglia i più sentiti auguri da parte della redazione di TV6. Massimo Oddo riparte dall'Udinese dopo l'esonero dello scorso febbraio dalla panchina della Pescara, l'ormai ex allenatore del Delfino, così ha l'occasione di allenare un'altra volta nel massimo campionato di calcio andando sulla panchina dell'Udinese. Oddo prende il posto di Gigi Del Neri, esonerato nella tarda mattinata di oggi. Ascoltiamo le sue prime parole nel servizio relativo alla conferenza stampa che si è tenuta nel primo pomeriggio. Massimo Oddo ricomincia dalla Serie A da Udine. L'allenatore pescarese che ha guidato il Delfino nel 2016 alla sua sesta e ultima promozione nella massima serie ha trovato ieri l'intesa con il club della famiglia Pozzo che ha dato il ben servito a Gigi Del Neri dopo la sconfitta a Casalinga di due giorni fa alla Daciarina contro il Cagliari. Un matrimonio che si sarebbe potuto celebrare alcune settimane fa quando la panchina di Del Neri era vacillata prima della secca vittoria sulla Sampdoria. Questa è stata la volta buona invece per il campione del mondo 2006 che in Friuli porta anche gli altri uomini chiave dello staff tecnico, il vice Marcello Donatelli e il collaboratore Luciano Zauri. Io vengo da due anni completamente all'opposto, un anno fantastico, un anno da incubo. Purtroppo mi porto dietro un'etichetta dell'allenatore vincente in via e dell'allenatore che non ha mai vinto in A. Quindi sono qui per cercare di smentire questo. Questo è il mio obiettivo. Grazie alla società di questa opportunità. Comunque sia un ringraziamento a Mister Del Neri, io ci sono passato e credo che quando le cose non vadano bene non è sempre e comunque solo colpa di un allenatore. È ovvio che paga sempre lui, è comunque un allenatore che stimo moltissimo e però è una cosa che aspetta tutti noi prima o poi. Quindi può succedere e comunque vanno a lui i ringraziamenti per quello che troverò perché comunque è tutto frutto di quello che è stato il suo lavoro. Poi per il resto io ovviamente sono molto contento di questa opportunità. L'approdo di Oddo a Ludinese da una parte accresce la colonia di tecnici abruzzesi in Serie A con Di Francesco e Giampaolo che stanno facendo benissimo sulle panchine di Roma e Sampdoria. Dall'altro si riflette positivamente sulle casse del Pescara che si libera del contratto dello stesso Oddo con scadenza giugno 2019. Con Ludinese il legame è fino a giugno 2018 con opzione di rinnovo in caso di salvezza. Nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento e domenica prossima debutterà contro la capolista Napoli. Curiosamente anche lo scorso anno Oddo fece il debutto assoluto da allenatore di Serie A contro il Napoli che fermò all'Adriatico Cornacchio sul 2-2 dopo essere stato avanti 2-0. Dalle spalle di Zeman si allontana anche il fantasma che aleggiava nel corso della miniserie di risultati negativi che si è fermata con la vittoria sulla Provercelli. A tal proposito il Pescara continua a lavorare in vista della trasferta di La Spezia di sabato prossimo. Di pomeriggio la singola seduta odierna. Domani alle 15 amichevole ad Ortona contro la locale formazione militante nel campionato regionale di promozione. Per la gara del picco Zeman dovrà ancora fare a meno di Balzano e Proietti. Resta in forte dubbio Bovo. I biancazzurri resteranno 5 giorni in Liguria visto che dopo la partita di La Spezia martedì sera 28 novembre ci sarà Ammarassi il match di Coppa Italia con la Sampdoria di Giampaolo e degli ex Torreira, Caprari e Verre. Dunque questi gli ultimi aggiornamenti anche sul Pescara. Adesso scendiamo di categoria in Serie C per parlare del Teramo. In campo domani pomeriggio alle 14.30 nella gara dei sedicesimi di finale contro la Viterbese. Gara particolare per il Diavolo che ritroverà due cardini delle passate stagioni come Alessandro Di Polo, Antonio e Diego Cenciarelli. Biancorossi che daranno spazio invece alle seconde linee. Sentiamo il servizio di Jacopo Forcella. Dopo il pareggio di Meda col Renate per il Teramo è già tempo di Coppa Italia per la gara dei sedicesimi di finale contro la Viterbese. Il Diavolo darà spazio a chi fino a questo momento ha giocato meno in una partita che comunque avrà un fascino particolare perché è condita da tanti ex. A partire dal Teramano Alessandro Di Polo, Antonio protagonista della cavalcata della stagione 2014-2015 esattamente come Diego Cenciarelli. Due cardini del centrocampo che fu di Vincenzo Vivarini e non solo, ma che dalla parte opposta potrebbero non ritrovare praticamente nessuno dei loro ex compagni. Perché il Teramo si presenterà tenendo a riposi vari speranze e caidi con Amadio ai box in attesa di capire se è recuperabile per il posticipo di lunedì sera contro la San Benedettese. Asta sceglierà tra i pali l'ex Avezzano Lewandowski confermando la linea 3 di difesa che sarà composta da Milillo, Altobelli e Redivivo Diallo che finora ha messo insieme soltanto 17 minuti in stagione e proprio in Coppa Italia. Esordio in maglia bianco-rossa anche per Andrea Mancini che finora non è mai sceso in campo dal suo arrivo a Teramo. Il classe 96 si piazzerà sull'out destro mentre Manfredo Pietrantonio su quello sinistro. Graziano, il recuperato Sumare e Polucci gli interpreti della mediana. Con Barbuti e Bacio Terracino a formare la prima linea e concedere un turno di riposo a Foggia e Tulli. In casa giallo-blu invece dopo l'isonero di un altro ex come Federico Nofri. L'arrivo di Stefano Sottili ha portato la vittoria al Moccagatta domenica contro l'Alessandria. Oltre a Di Paolo Antonio e Cenciarelli nella tuscia c'è anche Jefferson, centravanti arrivato in bianco-rosso la scorsa stagione con grandissime aspettative ma condizionato spesso dagli infortuni che ne consigliarono l'addio già nel mercato di gennaio. Non ci sarà il brasiliano domani, l'ennesimo stop della sua tormentata carriera gli impedirà di incrociare di nuovo una delle sue tantissime ex squadre. Ancora un passo indietro di categoria in Serie D. L'ultima giornata visto le rimonte di Vastese e Francavilla che nel prossimo turno si affronteranno al Valleanzuca. Vola nel frattempo l'avezzano di Giampaolo pari per il Pineto con qualche polemica verso l'arbitraggio. Sentiamo. Archiviata la tredicesima giornata in Serie D continua la marcia senza soste della Vastese che seppur col brivido finale vince tra le muramiche contro il Castelfidardo. Aragonesi che falliscono un rigore con Cristaldi e vanno sotto per merito di Calabrese. Sono stesso Cristaldi e Fiore a ribaltare il risultato nella ripresa anche se l'eroe di giornata e Stefano Camerlengo che neutralizza il rigore di Minella prima del triplice fischio di Claudio Campobasso di Formia. Non c'è storia invece nell'unico derby abruzzese di giornata perché l'avezzano dopo una prima frazione equilibrata nella ripresa si scatena e seppellisce con 5 gol il malcapitato San Nicolò. La mossa vincente è l'ingresso di Besana il cui traversone alza il sipario sul pomeriggio indimenticabile di Dos Santos autore di una tripletta. Le altre due reti marsicane fermate da Cerone con uno scavetto dagli 11 metri e nel finale da Pollino. Per la squadra di Campanella il sigillo di Di Benedetto per il momentaneo 2-1. Per la squadra di Giampaolo invece quarto posto, nono risultato utile consecutivo, 6 vittorie, 3 pareggi e domenica la sfida sul campo della Re Canatese. Pari a Pineto tra i padroni di casa il Campobasso. Molisani in un periodo di flessione dal punto di vista dei risultati, mentre anche per la squadra di Amaolo si tratta del risultato utile numero 9. Un punto condito però da qualche recriminazione arbitrale, specie per il contatto in area tra Elefante e Cercelluti nella prima frazione, tre minuti dopo l'iniziale vantaggio rosso-blu ad opera di Di Agostino. Proprio di Cercelluti la rete del definitivo pareggio, Pineto che per Castelfidardo recupererà Pezzotti ma perderà certamente Alfonso Pepe espulso nel finale di gara del Mariani Pavone. Cade ma con onore l'Aquila sul campo della prima della classe materica. La formazione di Chiozzo vince per 2-1 ma quella allenata da Battistini ha confermato ancora una volta che lo spirito a questa squadra proprio non manca. Perché dopo la rete di Magrassi l'Aquila sale in cattedra, trova il pareggio bellissimo con Ibe e meriterebbe il punto se solo non arrivasse la marcatura decisiva di Dappollonia. Col Nero Stellati sconfitto per la undicesima volta in 13 gare al Villa San Filippo di Monte San Giusto dalla San Giustese. La seconda rimonta a Bruzzese della giornata dopo quella della Vastese. La firma è il Franca Villa che a Iesi passa 1-2. Giallo-Rossi colpiti a freddo dal rigore trasformato da Margarita che ne falliscono uno qualche minuto dopo con Palumbo. Ma è lo stesso attaccante che all'inizio ripresa fa partire la riscossa del Villa. La sua girata è immortifera per Tavoni che non è perfetto sulla testata del gioiellino Yussif nemmeno 60 secondi più tardi. Domenica ha atteso il pubblico delle grandi occasioni al Valle Anzuca per un Franca Villa vastese davvero da non perdere. E' tutto anche per questa edizione del TG6. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Vi ricordo che tutti i nostri servizi sono disponibili sulla pagina YouTube dell'emittente e anche sul sito www.tv6.it. Grazie ancora e buon proseguimento con la nostra programmazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.